A pochi chilometri dal lago di Garda, in un ambiente tranquillo ed accogliente, il ristorante Pizzeria Le Querce è l'ideale per deliziare il vostro palato con cucina tradizionale, pesce e gustose pizze. Il ristorante Pizzeria Le Querce è il ristorante Pizzeria Le Querce, per la burocchia, fisch e leccere Pizzeria. Il ristorante Pizzeria Le Querce è il ristorante Pizzeria Le Querce, e il ristorante Pizzeria Le Querce è il ristorante Pizzeria Le Querce. 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 Il ristorante Pizzeria Le Querce è il ristorante Pizzeria Le Querce. Il ristorante Pizzeria Le Querce. Il ristorante Pizzeria Le Querce è il ristorante Pizzeria Le Querce. Il ristorante Pizzeria Le Querce.